Snodo importante per lo Sciacca, che in trasferta sul campo del Real Unione di Villafranca Sigula cerca quei punti che sarebbero fondamentali per non perdere troppo contatto con la prima posizione, al momento detenuta dalla nuova sportiva del Golfo. I seccensi infatti hanno tre punti di ritardo rispetto alla capolista. I padroni di casa, con i loro attuali cinque punti, sono in piena lotta per la salvezza, ma finora si sono dimostrati squadra combattiva ed ostica per tutti. La squadra allenata da Mario Putaggio, che viene da tre vittorie consecutive, potrà contare sul bomber Venezia, autore fino a questo momento di sette reti in totale. Nella classifica dei cannonieri è dietro soltanto a Davide Parisi del Don Bosco Partinico, con otto gol. Partita casalinga invece per il Ribera 1954, che al Nino Novara attende la visita del Carini, squadra che veleggia a metà classifica. Anche i crispini, a pari punti con lo sciacca, sono piazzati al secondo posto e hanno tutta l'intenzione di tornare alla vittoria dopo il pareggio di domenica scorsa. I riberesi si presenteranno con alcune defezioni, frutto delle espulsioni subite durante la giornata di campionato precedente. Il Carini è squadra ben organizzata, ma il confronto è assolutamente alla portata dei padroni di casa. In promozione, tutti i riflettori degli appassionati sono puntati sul big match tra Ares Menfi e Atletico Ribera, che si terrà domani pomeriggio al Comunale. La sfida nella sfida sarà anche quella tra i due centravanti, Galluzzo da una parte e Carovana dall'altra, autori entrambi di un brillante avvio di torneo. Le due squadre sono appaiate al secondo posto con 16 punti, a tre lunghezze di distanza dalla capolista Canicattì, che sarà protagonista in casa del facile testa-coda contro il Salemi. Tra Ares Menfi e Atletico Ribera sarà sicuramente una bella partita, giocata tra due squadre che puntano molto sulla fase offensiva e che hanno la malizia per puntare sulle posizioni di vertice, nonostante, tenendo conto della passata stagione, i bellicini si siano salvati al photo finish, mentre i crispini siano una neopromossa, giunta in promozione dopo la vittoria dei play-off.